Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e con questo video voglio, intendo dare battesimo a EasyDida2 Portabile. EasyDida2 Portabile nasce nella traccia dei lavori che ho già presentato online con il tentativo di destinare questa conoscenza sull'open source alla didattica, alla didattica inclusiva. L'idea è di facilitare nella posizione un po' intravista da Vygotsky come la posizione prossimale, essere nella posizione di facilitatore. La tecnologia, io sono un insegnante, sono un uomo di mezzo, sono un insegnante con una certa esperienza nel campo del software open source e freeware e quindi intendo a mettere a disposizione dei colleghi uno strumento appunto EasyDida2 che intende avvicinare, affiancare ai vecchi strumenti della scuola, che sono in queste immagini ben rappresentati, anche i nuovi strumenti della scuola. Questo per raggiungere più persone come questa classe è una classe dove ci sono bambini diversi cognitivi, le nostre classi sono estracomunitari, dialettofoni, bambini a base sociale allargata, la scuola italiana è questo. Non è più la scuola uniformata dove si può fare scuola in un stesso modo, si può dire le cose in un stesso modo, che sia uguale per tutti. Questa è una delle grandi difficoltà dei nostri ragazzi a scuola appunto e anche nostra di avere successo nell'insegnamento. Spero che con EasyDida, la facilitazione che la tecnologia ci può mettere a disposizione i nuovi linguaggi, si possa sfondare nella riuscita, nell'incontro appunto di queste persone, questi ragazzini che hanno difficoltà a scuola. Ma non solo, anche per potenziare la conoscenza su vari altri terreni. La scuola che intendo promuovere è un po' questa, una scuola che non discrimina, che riesce a dire la stessa cosa in tanti modi. La scuola che da un milano ci ha fatto conoscere negli anni 60 e che è un riferimento culturale ancora oggi per la legge sull'inclusione e per il nostro tipo di scuola italiana. È un riferimento irraggiungibile, ma bisogna tenere presente che questo è il nostro compito. Bene, l'esperienza nasce nel 2013 con il kit PC DSA, poi il 14, 15, alla fine ho smesso di farlo. È ancora presente sul sito dell'Indire, però non credo più che vadano aiutati i ragazzini a ricompensare le loro difficoltà con strumenti di tecnologie, perché comunque va aiutata la didattica a scuola. C'è niente da fare. O la didattica diventa lei stessa strumento di inclusione o il ragazzino sbatterà contro la testa, sempre la testa contro la lavagna. Se l'insegnante non trova un altro modo per trasmettere, per far conoscere il sapere, per far interagire i bambini col sapere e si pone sempre al davanti, i bambini non riusciranno mai a far capire di cosa hanno bisogno. L'insegnante deve mettere a disposizione della sua classe più linguaggi per dire le stesse cose, far agire i ragazzi in maniera consapevole e intraprendente sulla conoscenza e forse ci saranno maggiori risultati. Ecco, Isidida si vuole alleare con questo tipo di scuola. La scuola del fare, la scuola del creare. È uno strumento che facilita la didattica perché funziona da 7 a Windows 10 per il modo Windows e gli stessi applicativi che trovate in Isidida li trovate su Sodeo Linux, su Mac. Quindi la scuola non ha più l'impaccio con Isidida e con i suoi software di essere inchiodata, bloccata, interrotta nel dialogo digitale sui linguaggi perché usa gli stessi programmi. Non si potrà più dire non posso vedere questo, non posso lavorare con quel compagno là, il mio strumento non funziona sulla lavagna. Usando Isidida si avrà la possibilità di avere una facilitazione trasversale sui file prodotti. Che cos'è Isidida e quali sono le novità di Isidida 2? Allora, è una raccolta di applicativi molto conosciuti, documentati, open source, gratuiti, a disposizione di tutti. Funziona da 7 a Windows 10. Non funziona Isidida col Mac. Bisogna scaricarsi i software che sono gli identici anche per Mac. Su Linux e su Sodeo Linux ci sono gli stessi software che abbiamo su Isidida. È anche formazione perché all'interno di ogni applicativo, ogni cartella c'è il video guida fatto artigianalmente da Mac che spiega come funziona quel programma lì. Non spiega il programma, spiega come fa scuola con quel programma perché è rivolto agli insegnanti. C'è una sezione installazione e una sezione portabile perché se io scarico Isidida e un file zip lo scompatto in una chiavetta me lo posso portare a presso e mi porto dietro anche la formazione che mi spiega come si fa fare quella determinata cosa. È economia perché è gratuito per gli insegnanti, per le scuole e per i ragazzini. È quindi libera dalle difficoltà di compatibilità dei file da una versione all'altra. Cosa che fa parte dei piani industriali delle ditte che ci forniscono i software ma che l'open source ha in qualche modo liberato. Usando i software di Isidida non si sarà più imbrogliati dalla versione costretti a cambiare programma per poter vedere la presentazione del compagno o il video di internet. Le novità di Isidida sono 1. L'aggiornamento su tutti gli applicativi perché Windows 10 con i suoi aggiornamenti gli ha messi alcuni in difficoltà. 2. Open board al posto di OpenSankore per gestire le lavagne interattive e questo open board che c'è dentro 1. È installabile quello che si scarica dal sito di riferimento e 1. È portabile creato da me. Quindi gestisco la lavagna interattiva con la mia chiavetta in tasca, la metto dentro il PC e lavoro alla lavagna. PC e Windows naturalmente. Poi ho creato un ambiente di risorse e formazione online per poter accedere ai corsi del Centro Nazionale delle Ricerche SD Quadro ed avere anche l'attestato certificato di frequenza. Inoltre addirittura una app per digitalizzare il testo. Io parlo e posso scrivere. Bene, come è fatta Isidida? Eccola qua. È un file zip che si scarica online dal mio sito www.fusillo-francesco.it e una volta scompattato questo file zip in una chiavetta, chiavetta, meglio 8GB che costa ormai pochissimo, avrò all'interno di questa cartella Isidida una versione installabile e una versione portabile. In quella installabile ci sono le guide. Posso anche spostarmi quella portabile in una chiavetta ad avere una chiavetta più piccola, ma oggi i costi delle chiavette sono veramente irrisori. E poi la presentazione che vedete adesso, i video e i riconoscimenti. Ecco la parte installabile. Come vedete non ci sono i nomi dei file, dei programmi che andrete a usare, che vi propongo, ma ci sono la destinazione. Questo è un pensiero che ha creato anche l'innovazione sul nostro omato software didattico di Linux che distribuiamo col CNR ed è proprio l'idea di aiutare gli insegnanti a capire che cosa fa un software. Creare webinar e video lezioni come quella che sto facendo adesso, creare audio lezioni per se ho nel caso qualche bambino con difficoltà visiva, lavorare in internet, navigare, creare presentazioni, testi e disegni, in realtà qui sotto c'è LibreOffice nella versione a lungo termine, stabile, creare mappe concettuali, qui sotto c'è C-Map, vedere e manipolare PDF, qui sotto c'è PDF Exchange, catturare immagini, qui sotto c'è Fastone Capture, un lettore multimediale, qui è VLC, quello nuovo, che legge tutti i formati anche gli ultimi che sono usciti su internet, leggi per me in tre versioni, Junior, FV40 e quello tradizionale con le voci SAPI, per poter mettere le sintesi vocali di qualsiasi lingua io ho intenzione di utilizzare. Esercitati alla tastiera, qui sotto c'è Tutore Dattilo e qui c'è San Corè, c'era San Corè, adesso c'è Open Board che ha sostituito San Corè e che gestisce tutte le lavagne che hanno Windows 10 e quelle che stanno uscendo del mercato. Qui è un programma per fare cartelloni partendo da un'immagine, si chiama Poster Azo e questa è la nuova ambiente di formazione, con formazione certificata e online, quindi chi frequenterà questi corsi, i corsi, ma poi lo spiegherò un po' meglio. Questa è la parte portabile, anche qui non c'è il programma ma ci sono cosa fanno, i programmi eccoli qui, vedete Fastone, CamStudio, Audacity, GeoGebra, LibreOffice, Tutore Dattilo, Leggi per me, Posterazzo, Open Board, eccetera. E la formazione è anche qui, perché se io mi porto una chiavetta e voglio dettare al PC, clicco Detta al PC, si apre l'immagine, si apre il software, il browser e posso dettare al PC. Se io voglio fare una ricerca e ho bisogno di uno schema interattivo, c'è. Ho bisogno di un sinonimo e contrario, c'è la risorsa. Ho bisogno di un dizionario online, c'è, voglio il video di Rai Storia che riguarda il fascismo nel 1939, vado su Rai Storia Cloud e trovo il collegamento. Direi, ho selezionato delle risorse online molto serie, documentate, che vengono da istituti importanti, non vengono così, non sono raccolte in modo pubblico, non c'è pubblicità, non sono raccolte per interessi e scopi commerciali. Allora, cosa posso fare con EasyDida? Posso dare una scossa alla didattica, cioè la didattica tradizionale, trasmessa, letta sul libro e trasferita ai ragazzi, può avere un incremento di azioni. Posso documentare con i video, posso aggiungere audio, posso vedere dei video da qualsiasi fonte, posso fare delle mappe, posso gestire la lavagna, fare le espressioni, registrare quello che faccio finché lo faccio. Ecco, tutta questa potenzialità che però dialoga con i ragazzi, non è solo trasmessa, è fatta anche dai ragazzi, questa è l'azione. E poi anche lavorare sul cloud con un software libero, aperto come Firefox. Ecco, la ragione di questo è anche un mio impegno, sono un insegnante di sostegno molto anziano, sono dal 1981 che faccio questo mestiere, mi sono sempre posto il problema di mettere a disposizione di ragazzi in difficoltà degli attrezzi di lavoro che potessero essere manipolati anche dagli altri. Ma questo si può fare se io ho degli strumenti che hanno varie maniglie. Ecco perché il software libero e l'open source mi dà questa potenzialità. In questo tipo di scuola, la scuola dei pari, dove c'è un dialogo anche con i ragazzini, fra di loro, se io ho più linguaggi incontro chi ha più orecchie, chi ha orecchie diverse. Quindi l'uniformità dei software mi aiuta in questa campagna. E posso creare, sulla stesso argomento, più modi di dirlo, in modo di incontrare i ragazzini. In più, la cosa bella è che la generano loro, come il programma per le LIM, che non sta sulla LIM, ma sta sui PC di ragazzini, perché open board è libero, se lo possono installare, possono manipolare il materiale dell'insegnante, andare oltre. Attenzione però che la tecnologia può essere un grande imbroglio, perché tutti i software che io ho messo a disposizione possono essere usati in questo tipo di scuola. Ognuno con il suo PC, che fa la sua presentazione, può starci una volta, ma se diventa il leitmotiv delle attività, direi che è un fiasco per me, è Isdida. Ecco, l'individualismo si può sviluppare con la digitalizzazione, la solitudine dei bambini, che già sono anche troppo soli con il loro telefonino o smartphone. Usiamo Isdida per far lavorare insieme i ragazzini. Altrimenti abbiamo perso la partita. Ecco, questa è la traccia e il lavoro che intendo, che intendo in qualche modo promuovere con Isdida, in questa visione di scuola. Mi soffermo un attimo, prima dei ringraziamenti, a mostrare realmente come si presenta Isdida. Allora, Isdida 2 è questa cartella, c'è la parte portabile e la parte installabile. E poi ci sono, come vedete, i video, i riconoscimenti, anzi, devo ringraziare assolutamente Giuliano Serena e per il suo fantastico Leggi per me, perché è un programma eccezionale. Senza quello, Isdida avrebbe una grande perdita di qualità. Poi, Claudio Guccherato, per Tutore Datilo, anche lui è uno sviluppatore libero che ha deciso di mettere a disposizione il suo lavoro e per Tutore Datilo è facilita molto l'apprendimento della testiera. Adesso, però, voglio far vedere, per quel che riguarda la versione portabile, ma anche la versione installabile, un attimo le risorse online. Perché? Perché, diciamo, è una parte di qualità del nuovo Isdida 2. Una grande differenza da quella precedente sono queste risorse. Con questo link potete accedere al SD Quadro. SD Quadro per poter avere una formazione online, eccola qua, certificata, MIUR, quindi, stando ben seduti in poltrona, ci si può aggiornare, formare ed avere anche l'attestato su innumerevoli temi e argomenti che riguardano la tecnologia e l'inclusione. E poi voglio mostrare tutte le altre risorse online che io ho selezionato per questo lavoro. Dettare al PC, scrivere in blind, tradurre in qualsiasi lingua, convertire un OCR che vi converte il testo in digitale online che permette di mettere le pagine sotto lo scanner ed averle sotto forma di testo digitale. Libro parlato, collegamento, libri audio, liber libero, una raccolta infinita di testi digitali, un'enciclopedia online, i verbi coniugati in italiano, perché stranieri è utilissimo, sinonimi e contrari è utilissimo anche per me, un formulario di matematica online e la Khan Academy, una interessantissima raccolta di video lezioni in matematica. E poi queste risorse per la didattica che sarebbe bene che vi consiglio di andare a visitare. A parte tutto il patrimonio della RAI, risorcedidattiche.net, il link a YouTube o a Edu, Edu Media Share, una raccolta di attività digitali con i ragazzini per la primaria. Quindi qui dentro ci sono la possibilità di raccogliere materiali per introdurre in modo interattivo le vostre lezioni, una grandissima quantità insomma di materiali. Ecco, chiudo con, ritorno alla pagina di Dao Milani e della scuola di Barbiana che è un riferimento, ripeto, irraggiungibile. Però oggi le tecnologie, le tecnologie ci permettono un grande scatto di innovazione. Vi ringrazio per l'ascolto e per aver ascoltato questa guida di Isidida 2. Spero che possiate sperimentarla e buon lavoro e buona innovazione. Francesco Fusillo per le guida di Isidida.